Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per lavori, possibili disagi alla circolazione. Sempre sulla A1 per lavori sono chiuse le aree di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna e Montepulciano Ovest in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze Scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebbis-Tiberina per lavori all'altezza dello svincolo di Sansepolcro Sud Scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in entrate e uscita in direzione Roma. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!